ben trovati in questo video parleremo del payoff degli strumenti lineari ovvero della rappresentazione grafica del rischio rendimento del nostro portafoglio che è composto da strumenti quali azioni etf con modi di valute o future questo particolare grafico è la rappresentazione di quanto una posizione può guadagnare o perdere in funzione del movimento del prezzo del sottostante apro una veloce parentesi d'ora in poi visto che stiamo parlando di derivati chiameremo questo strumento sottostante generalmente il sottostante è un indice e la derivata prima ovvero il derivato lineare per eccellenza che segue i movimenti dell'indice è il future torniamo quindi al cuore dell'argomento il profilo di rischio abbiamo detto che è un grafico c'è una linea verticale delle ordinate che rappresenta i livelli di guadagno e perdita della posizione c'è inoltre una linea orizzontale delle ascisse che rappresenta i livelli di prezzo dello strumento sottostante come si può vedere l'asse orizzontale delle ascisse incontra l'asse verticale delle ordinate al punto zero il punto zero corrisponde al nostro prezzo di carico ed ovviamente alla situazione in cui la posizione finisce in pari questo tipo di grafico è chiamato appunto payoff serve per comprendere esattamente quali rischi sta correndo il nostro portafoglio relativamente alle nostre scelte operative come sapete quando ci affacciamo al mercato possiamo prendere posizioni a rialzo acquistando un future a un determinato prezzo rivendendolo quando il prezzo aumentato e ottenendo così un guadagno oppure possiamo prendere posizioni a ribasso vendendo allo scoperto cioè vendendo un future a un determinato prezzo e ricomprandolo poi quando il prezzo è diminuito nel primo caso parleremo di posizione lunga in acquisto altrimenti detta long nel secondo caso parleremo di posizioni posizione corta o in vendita allo scoperto chiamata short vediamo ora i profili di rischio di queste posizioni partiamo subito con il profilo di rischio del long sul sottostante la strategia consiste semplicemente nell'acquistare azioni etf o future si entra in posizione confidando in una salita dei prezzi il profilo di rischio è perfettamente lineare poiché ad ogni punto di movimento corrisponde un'identica movimentazione di portafoglio nell'esempio abbiamo simulato di entrare al mercato con un long future quando il prezzo batteva mille ad ogni punto di movimento corrisponderà un ugual movimento del nostro portafoglio quindi se il prezzo da mille sale a 1100 io guadagnerò 100 punti che equivalgono per comodità operativa a 100 euro al contrario se da mille scende a 900 io sarò in perdita di 100 euro ovvero 100 punti il profitto è quindi dovuto ad una salita del sottostante e la nostra perdita è dovuta ad una discesa del sottostante il punto di pareggio altrimenti chiamato break even è rappresentato dal prezzo di ingresso della posizione ovvero quello che è il nostro prezzo di carico cioè mille passiamo adesso alla posizione esattamente contraria diametralmente opposta che il rischio e il profilo di rischio di uno short sul sottostante lo short future è una strategia infatti che consiste nel vendere allo scoperto azioni etf o future per poi ricomprarli dopo un ribasso dei prezzi la si utilizza infatti quando si pensa che le quotazioni possano scendere e il nostro guadagno sarà dato esattamente dalla diminuzione del valore del titolo e la nostra perdita al contrario sarà data da un aumento del valore del titolo anche in questo caso il profilo di rischio è perfettamente lineare ipotizzando che il nostro ingresso a ribasso sia avvenuto mentre il prezzo batteva mille e abbiamo appunto un prezzo di carico a mille se il prezzo scende saremo in guadagno e se il prezzo sale saremo in perdita esattamente come per la posizione log il punto di pareggio è rappresentato dal prezzo di ingresso cioè mille questo primo esempio di payoff servirà successivamente per far comprendere le grandi differenze che ci sono tra un payoff di un future e un payoff di opzioni dove entra in gioco una nuova variabile di cui parleremo successivamente che è la linea dell'acnau grazie per l'ascolto ai prossimi video